Sempre più magra, sempre più fascinosa, sempre più in forma, Geppi Cucciari è deliziosa davanti ai flash con indosso il suo abitino a fantasia nero e azzurro, con scarpe blu abbinate. L'attrice e conduttrice comica ha presentato alla stampa l'ultimo film che la vede protagonista femminile nelle sale, un fidanzato per mia moglie, diretto da Davide Marengo. Nella pellicola Geppi è Camilla, una donna che per amore di Simone si trasferisce dalla Sardegna.